dammi un feedback sul corso come ti sei trovato? benissimo devo dire veramente disponibili tutti da Vito che comunque tutte le lezioni online che ho seguito cioè perché poi ho seguito pure delle lezioni quelle dove si faceva la chiamata con Zoom quest'estate mi ha chiarito molti dubbi Anna Paola pure sempre gentilissima ultimamente mi pare si chiama Valentina la ragazza della segreteria sì 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 tutti gentili quando li scrivi su Whatsapp rispondevano subito veramente bene sicuramente farò più in là però perché adesso vorrei fare un corso d'inglese più in là farò farò il corso di Python perché mi piace molto la programmazione